Ma Click Boom nasce in una notte d'estate, abbiamo fatto una sessione con Davide Petrella quindi abbiamo messo giù questa melodia e questa cosa ritmica e tutto è nato molto istintivo, è stata una bellissima sessione di scrittura insieme ha anche il primo estratto del mio nuovo album Radio Sakura che uscirà l'8 marzo ed è molto rappresentativo di dove la mia musica secondo me sta andando Il palco dell'Aristo nel Festival di Sanremo per me rappresentano proprio l'opportunità l'opportunità per un artista di arrivare a più persone possibili e dare una chance alla propria musica di arrivare a tutti ed è una cosa che solo in Italia esiste, è una cosa così, secondo me è bellissima Il brano dei Festival di Sanremo di sempre che mi ha più colpito che secondo me è anche responsabile del fatto che io abbia deciso di fare la cantante è Luce di Elisa che ho visto da 2000-2001 che ho visto da ragazzina, sono rimasta incantata e me lo porto dietro sicuramente ancora adesso Grazie! 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 Grazie!